Assoluto. La temperatura dell'universo dallo zero assoluto, ovvero da circa 270 sotto zero, arriva a molti milioni di gradi, forse persino oltre. Se su questa asse andiamo in cerca delle condizioni necessarie per la sopravvivenza dell'uomo, si osserverà come questo intervallo sia prossimo all'estremità inferiore dell'asse, al punto d'inizio. Dista solo 300 gradi, mentre dall'altro punto, dal punto assolutamente più caldo dell'universo, lo differenziano mezzo miliardo di gradi, ma forse anche di più miliardi. Se osserviamo la più piccola delle cose esistenti, l'atomo, o meglio una particella elementare, e lo confrontiamo alla maggiore cosa esistente, lo stesso universo nella sua interezza, allora ancora una volta risulterà che l'uomo sia assai più vicino all'infinitamente piccolo che all'infinitamente grande. Se si immagina una linea che parte del deforme, dell'abominevole, dall'aido, dal repugnante, dallo stomachevole per tendere all'inarrivabile bellezza, al meravigliosa, all'irraggiungibile, alla magnificenza inaccessibile, allora temo di trovarci miserabilmente dalla parte peggiore dell'asse, a smisurata distanza dalla metà del percorso, non rendendoci conto forse della nostra desolante condizione. Dalla dimensione oltre la linea percepiamo appena appena qualche cosa e abbiamo solo un'idea vaga di ciò che sta dietro il sipario, di quella realtà di cui ci sanno parlare il cielo stellato, la venere di Botticelli, il panorama della baia di Taormina, la sagoma di una o due cattedrali, le melodie dissonate in la o si minore. Doi capitoli dal romanzo L'Impopò, tutti i testi nella traduzione di Tommaso Camini. In certe fontane della Transilvania viva il popolo degli uomini a doppio cuore. Un loro cuore batte di giorno, l'altro di notte. Uno batte in diesis, l'altro in bemolle. Quando si innamorano si amano a quattro cuori. Nelle forme verbali che fondano la loro vita, le donne sono aggettivi, gehi e attributi, gli uomini, verbi e predicati verbali. La ciccola e la sequoia Un'effimera o ciccola si installa sul ramo di un poco sviluppato pino sequoia, tanto giovane da non essere per nulla più alto di un piccolo sorcio quando si alza in punta di piedi, nonostante che fosse un gigantesco pino sequoia di California. Attento, si bilò la sequoia, mi spezzi i rami. Figurati, e ribatté l'effimera, non si può mica vivere in eterno. In eterno forse no, brontolò il pino gigante, ma per molto tempo forse sì, e io citerei. Quanto a lungo, schienile la ciccola? Dieci giorni? Di più? Fino a cinquecento? Il pino tacque. Forse stava contando tra sé e sé. La vita dura un solo giorno, ma bisogna vivere, ma bisogna vivere, bisogna vivere in modo che ci trovino posto diecimila anni, così bisogna vivere. Santo cielo, cosa mi toccherebbe se dovessi vivere per cinque o sei giorni, imbruttendo, invecchiando, piena di rughe? Così fantastico, a voce alta, la ciccola. Sono parole più importanti. Non è, non è, non è, non è.